Giorgia Meloni, due punti aperte alle virgolette, Salvini e Berlusconi si sono uniti al PD e Movimento 5, Stelle per escludersi. Io non lo farei mai. Purtroppo è vero, dobbiamo dire che purtroppo è vero. Lega e Forza Italia si sono vendute, Forza Italia già da parecchio tempo faceva schifo, c'è il famoso e orribile Gianni Letta che si mette d'accordo con il famoso e altrettanto orribile Enrico Letta e abbiamo questa orrenda schifezza di questa coalizione mostro, questa coalizione mostro dove tutti stanno insieme, solo l'unico cemento è il potere e la gestione del potere. Veramente grave che da Lega si presti. Veramente molto molto grave. Forza Italia invece da lungo tempo ormai faceva assolutamente schifo. Io ho sempre difeso Salvini, so che si trovava ad avere con lui dei grandi di TDC come il massone Zaia o come lo schifosissimo Giorgetti, però ormai purtroppo non posso neanche più difendere Salvini. La Lega ormai ha esaurito la sua funzione e adesso è esattamente come il PD e come Forza Italia contro gli italiani. Quindi, cari amici leghisti, non rompetemi i coglioni, bisogna essere onesti e dirle le cose. Io non avevo mai firmato assegni in bianco, non ne firmo più, non do assegni in bianco a nessuno. Io aspetto i politici e voglio vedere che portino a casa dei risultati. Se e quando tradiscono Salvini, non Salvini, non me ne frega niente. Io lo dico forte e chiaro e li mando a cagare. Quindi iscrivetevi al mio canale e mettete il like se vi piacciono i contenuti proposti.